Cosa di dare e che ne ti si incontri? Si riceva in fronte il dispetto e la rabbia. Chiaro, che meglio ora vorremmo in tappia? Dov'è l'appuntamento che tu gli promodeste? Che in giardeccia ti sia più lungo? Scrivi, che io scrivo? Ma signora, e scriveremo? E con te io prendo su me stessa. Canso a te da sannaria. Sannaria. E so amore si è diretta. E so amore. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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